Maltempo in Calabria a Cosenza violenta tromba d'aria. Danneggiata a Vibo Valencia la ciclostazione del bike sharing. Circa 300 mila persone hanno visitato a Cosenza il villaggio della Col di Retti a sostegno dell'agricoltura italiana. Presentato a Vibo Valencia il progetto Educando all'ambiente. Salve e ben ritrovati con una nuova edizione dell'informazione di Calabria TV. Arrivati da diverse regioni d'Italia hanno partecipato al corteo che ha sfilato per le strade di Steccato di Cutro. Uniti da un unico proposito fermare le stragi subito dopo il naufragio avvenuto il 26 febbraio scorso dove hanno perso la vita 79 migranti. Fiori lasciati sulla spiaggia di Cutro momenti di commozione e una preghiera in arabo recitata dall'apparente di una delle vittime del naufragio del barcone. Un corteo di 5.000 persone promossa dall'associazione aderenti alla rete 26 febbraio che ha attraversato il paese calabrese. Una croce realizzata con il legno della barca naufragata a largo di Cutro portata dall'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. Presente al corteo con Cecilia Strada figlia di Gino Luigi De Magistris. Intanto monta ancora la polemica per il karaoke di Giorgia Meloni e Matteo Salvini al compleanno del ministro che cantano la canzone di Marinella di De Andrè. I parenti alle vittime, anche loro presenti al corteo, ennesimo schiaffo dicono. Per il capogruppo DEM al Senato si muore a Malpezzi, non omaggiano i morti ma cantano. Vorremmo che le tragedie del genere non accadessero più, ha dichiarato la presidente di Emergency, Rossella Miccio. Siamo qui anche per ricordare a chi ha le responsabilità di erivitare queste tragedie. Era necessario e indispensabile essere qui e siamo contenta che siamo in tanti a testimoniare non solo la solidarietà e il rispetto per le persone che hanno perso la vita, per i loro familiari, per i superstiti che sono ancora in condizioni non dignitose, ma anche una richiesta di giustizia, di chiarezza, di assunzione di responsabilità di chi avrebbe dovuto fare di tutto per salvare queste vite. Presente anche il senatore e il segretario regionale del PD Nicola Irto. Sono più avanti di chi ha responsabilità di governo in questo luogo. Ha pensato bene di non dare risposte vere ma ha pensato di fare una sceneggiata come il Consiglio dei Ministri che non ha portato nulla di concreto. E questo segnale di grande partecipazione di movimenti, sindacati, partiti rappresenta un segnale di speranza e di umanità che dalla Calabria vuole partire all'Italia e semmai si chiede al Governo nazionale di non fare cose spot rispetto alle questioni successe in questo territorio ma semmai servono risposte vere di solidarietà e di accoglienza e soprattutto che chi chiede aiuto va soccorso e va aiutato. Non va lasciato morire in mare. Ancora il mare ci restituisce fino a qualche ora fa ancora dei morti, delle vittime. Tutto questo è inaccettabile per un Paese civile, tutto questo è inaccettabile per la Calabria. Il messaggio è la straordinaria, enorme, gigantesca partecipazione di oggi ne dà il segnale diverso e migliore di una Calabria e di un'Italia che deve essere accogliente, che deve guardare all'umanità e alla solidarietà prima di ogni cosa. Per Tania Sacchetti, segretaria nazionale della CGL, un corteo, non una passerella sui luoghi della tragedia a differenza del Governo. È necessario essere qua perché la tragedia che c'è stata lo scorso 26 febbraio doveva poteva essere evitata. È necessario essere qua come organizzazioni nazionali per dire che quello che è successo non deve più accadere. È necessario essere qua per chiedere politiche sull'immigrazione molto diverse da quelle che abbiamo visto in questi anni e anche da quelle che il Governo da ieri e ieri l'altro ha promesso qui con un nuovo decreto. Purtroppo abbiamo un Governo che continua a non rispondere a domande prevedibili che molti italiani si pongono. Qualcosa non ha funzionato perché quella notte non è uscita la Guardia Costiera che era l'unica ad avere i mezzi per intervenire efficacemente. E poi vediamo anche che emana un decreto che non comprende qual è la priorità, cioè rafforzare il salvataggio in mare e rafforzare i canali legali di ingresso nel nostro Paese. Maltempo in Calabria. Nel pomeriggio di domenica Cosenza, una violenta tromba d'aria, ha provocato diversi danni ad abitazioni private e edifici pubblici. Una tromba d'aria si è abbattuta ieri pomeriggio su Cosenza. Il forte vento ha diverto il tetto della Prefettura che è precipitato su via Monte Rosso provocando anche danni importanti. Adesso la strada è stata chiusa al traffico. Il forte vento ha creato danni anche alla copertura di un plesso della scuola dell'infanzia con l'odi Dione Salvi. Si registrano due ferite lievi. Si tratta di una donna che si è messa a protezione del figlio ed anche un finanziere che si trovavano entrambi nei pressi della tenso struttura di Piazza dei Bruzzi dove era stato allestito il villaggio Coldiretti che ha subito molti danni. Alberi spezzati e lamiere di velte sono caduti per le strade della città, specie nel centro storico. Diversi tetti hanno ceduto su via Popiglia. Anche diversi semafori sono stati abbattuti nei pressi del carcere. Sul posto gli interventi di carabinieri e polizia e poi quelli dei vigi del fuoco per tanti interventi per risolvere le principali criticità. Il centralino dei pompieri è andato in tilt. Sono state 30 richieste di interventi per alberi caduti su strada, tetti scoperchiati e anche verifiche per tegole pericolanti. È intervenuto anche il sindaco Franz Caruso. Ringraziando tutti i volontari e le forze dell'ordine per lo straordinario lavoro di soccorso. Il primo cittadino ha spiegato che si è cercato un alloggio adeguato alle famiglie che non sono potute rientrare nelle proprie case. Mentre si è provveduto anche a firmare un'ordinanza di chiusura per oggi per la scuola di Via Giulia che risulta essere l'edificio pubblico più colpito dalla violenza della tromba d'aria. Ovviamente, dice il primo cittadino, saranno giorni non facili, ma cercheremo di risolvere tutto al meglio. È stata danneggiata a Vibo Valencia, in piazza San Leo Luca, la postazione di bike sharing ad opera di quattro giovani ripresi dalle telecamere. Indagini in corso. Sono al vaglio degli agenti della Polizia Municipale che le hanno immediatamente acquisite le immagini, che anche noi possiamo vedere, delle telecamere di video sorveglianze installate sulle ciclostazioni presenti a Vibo Valencia e che hanno inquadrato, in quella allocata dinanzi a piazza San Leo Luca, il danneggiamento di una postazione ad opera di quattro giovani. L'assessore comunale Vincenzo Bruni ha spiegato che la Polizia Municipale, che ha avviato i controlli del caso, potrebbe in questo modo individuare i responsabili. Purtroppo, l'avvio di un servizio atteso come il bike sharing, reso possibile dopo il superamento di non poche problematiche di natura burocratica e amministrativa, è stato subito macchiato da incresciosi episodi di vandalismo. Infatti, quanto ripreso dalle telecamere di video sorveglianze, non è il solo atto vandalico, in quanto altro danneggiamento è stato inoltre compiuto su una e-bike della ciclostazione di piazza Municipio, nel tentativo di estrarla forzatamente dalla postazione. In considerazione di quanto accaduto, l'amministrazione comunale ha chiesto un intervento aggiuntivo per incrementare i dispositivi di sicurezza delle ciclostazioni, intervento che ha richiesto la sospensione dell'applicativo gestionale che dovrebbe tornare pienamente operativo già in settimana. Nel frattempo, le 20 e-bike nelle quattro ciclostazioni potranno essere utilizzate in maniera diretta. Ebbene, ricordare che nel caso in cui vengano individuati, gli autori dell'atto vandalico saranno perseguiti e condannati a norma di legge. Cambiamo argomento. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in Calabria, domenica 12 marzo, alla Mezzia Terme, ha incontrato al Teatro Grandinetti dirigenti e sostenitori calabresi per un confronto politico interno dedicato al territorio. rispetto tantissimo questa terra, questo territorio, voi, ed è per questo che non mi sono mai rassegnato al fatto che questa regione sia stata sempre considerata un territorio marginale, anche dalla politica nazionale, una regione quasi di passaggio. La Calabria, storicamente, sembra quasi essere condannata all'emarginazione. Questo non lo possiamo accettare. Così, Giuseppe Conte ha aperto i lavori dell'Assemblea regionale del Movimento 5 Stelle. L'Italia, ha sostenuto Conte, può ripartire se riparte tutto intera e se colmiamo le diseguaglianze anche in termini di opportunità. Conosco bene i problemi tradizionali di questa terra, dalla sanità in primis, ma non solo. Conosco bene anche lo scarso sviluppo del turismo, infrastrutture, la necessità di investire tanto nella scuola, nell'istruzione, nella formazione, il problema della mancanza di lavoro. Quasi cinque ore di confronto, una quarantina agli interventi indirizzati a Conte e limitati in tre minuti ciascuno. Corale, accorata e a volte anche concitata la richiesta, soprattutto da parte dei militanti, di definire i coordinamenti territoriali in modo da avere un'organizzazione certa, definita e soprattutto capillare. E sarà questa la richiesta che Conte, riferiscono fonti interne al Movimento 5 Stelle, avrebbe nelle sue conclusioni recepito, annunciando che a breve, una volta analizzate e approfondite le sollecitazioni della base calabrese, si procederà a designare i coordinatori, a partire da quello regionale, ruolo rimasto vacante dopo le dimissioni di Massimo Misiti. La conferma comunque che Movimento 5 Stelle in Calabria e ancora le prese contenzioni e fibrillazioni. Quanto ai papabili, i nomi maggiormente accreditati restano quelli delle parlamentari Vittoria Baldino, capogruppo Movimento 5 Stelle alla Camera, e Anna Laura Enrico, e anche l'euro parlamentare Laura Ferrara. Tornando a Roma comunque, Conte avrà sicuramente molti più elementi per chiudere il dossier Calabria, in vista comunque anche novità sostanziali nell'organizzazione, che sarà incardinata non più negli attivisti, ma negli iscritti ai gruppi territoriali o al blog. Sfumeranno circa 20 miliardi di euro di fondi europei se non saranno spesi entro fine anno. Questa è la valutazione dell'ufficio studi della Cigia di Mestre, che mette in guardia anche sui fondi per il PNRR. Le regioni più in difficoltà sono quelle del sud. La Calabria dovrebbe spendere 616 milioni di euro. Dei 64,8 miliardi di euro di fondi europei di coesione messi a disposizione dell'Italia nel periodo 2014-2020, di cui 17 in confinanziamento, la spesa certificata da Bruxelles al 31 dicembre scorso è stata di 35 miliardi pari al 54% del totale. Pertanto, entro la scadenza di attuazioni di questo settennato, il 31 dicembre di quest'anno, l'Italia dovrà spendere i restanti 29,8 miliardi pari al 46% della quota totale, di cui 10% di confinanziamento nazionale. Se non si riuscirà a centrare questo obiettivo, la quota di fondi Unione Europea non utilizzati andrà persa. La situazione viene ricostruita dall'ufficio studi della CGA di Mestre e coinvolge ovviamente anche la Calabria. Dei 19,9 miliardi di euro di risorse europee che bisogna mettere a terra entro la fine di quest'anno, 15,3 sono in capo allo Stato centrale, progetti PON, FERS, FSE e 4,6 alle regioni. Insomma, osserva la CGA, sarebbe sbagliato prendersela soltanto con le amministrazioni periferiche. A rischio, come era prevedibile, anche i fondi del PNRR in attesa della presentazione del nuovo Stato di avanzamento da parte di Italia domani, secondo la nota di aggiornamento al DEF presentata il 27 settembre scorso, entro il 31 dicembre 2022 l'Italia dovrebbe avere speso 20,5 miliardi, praticamente la metà dei 44,4 previsti inizialmente dal DEF. In questo caso l'aumento del costo dei materiali avvenuto nell'ultimo anno ha frenato enormemente la realizzazione di molte opere pubbliche facendo saltare molti obiettivi. Al 31 dicembre scorso dei 21,2 miliardi finanziati dall'Unione Europea e gestiti dalle regioni nel settennio 2014-2020 circa 16,6 sono stati spesi e gli altri 4,6 dovranno essere spesi entro quest'anno. Sempre secondo i dati della CGA di Mestre, le amministrazioni regionali più in difficoltà sono quelle del mezzogiorno. Entro la fine del 2023 la Puglia deve spendere altri 335 milioni, la Calabria 616, la Campania 1,27 miliardi e la Sicilia 1,45 miliardi. In buona sostanza la percentuale di spesa realizzata sul totale da ricevere era del 65,5% in Calabria, del 65,7% in Campania e del 64% in Sicilia. Presso la cittadella regionale a Catanzaro la vicepresidente della regione con delega all'istruzione Giussi Princi ha tenuto un non-forum sul sistema integrato di educazione e istruzione 06 nel corso del quale è stata presentata alle parti sociali e sindacali la programmazione educativa e finanziaria. Ce lo si era detto sin dal primo momento che avremmo voluto contrastare la povertà educativa e le disuguaglianze legate all'infanzia. Quindi abbiamo chiamato i primi mesi del nostro mandato tutti quanti i comuni per il tramite del lancio, abbiamo fatto un censimento, abbiamo individuato le risorse per cui oggi con 70 milioni di euro andremo a condividere con tutti quanti gli attori del nostro territorio e quindi parlo del lanci, parlo dei 32 ambiti territoriali sociali, parlo dell'USR, dell'università e quindi tutto quanto il panorama legato ai servizi educativi per l'infanzia. Andremo a condividere quella che è la nostra programmazione educativa e finanziaria perché vogliamo che i prossimi anni siano caratterizzati dall'ampliamento delle strutture legate all'infanzia, strutture moderne e funzionali, ampliamento dei servizi educativi e quindi più sezioni primavera, più nidi, più micronidi, abbattimento delle rette a carico della famiglia, più formazione, formazione che vada a coinvolgere tutto il personale docente ed educativo delle scuole pubbliche e private di tutti i servizi educativi, quindi più poli educativi per l'infanzia e più coordinamenti pedagogici e quindi un grande raccordo anche con l'USR affinché realmente la nostra, come abbiamo sempre detto con il Presidente Occhiuto, sia sempre di più una regione a misura di bambino. Questo incontro sarà importante perché andremo a supportare proprio attraverso tutto lo staff e il gruppo operativo del Dipartimento tutti quanti i comuni nella concretizzazione degli obiettivi d'azione che ci siamo dati. Per i prossimi cinque anni siamo già partiti, si tratta oggi di andare a definire quelli che sono gli step operativi e programmatici e quindi noi ci affiancheremo con webinar, con azioni di consulenza e di supporto affinché proprio le risorse che noi come Regione mettiamo a disposizione vengono programmate con il fine appunto che ci siamo dati che è proprio quello di garantire le pari opportunità di istruzione e di educazione per il mondo dell'infanzia perché non dimentichiamo che questa è una delle principali criticità che ci appartiene dal, come si vince dal rapporto Sevde-Cidren. Migliaia di persone hanno visitato nei tre giorni del fine settimana il villaggio Col di Retti a Cosenza, sfidando anche il maltempo a sostegno dell'agricoltura italiana, scesa in piazza per far conoscere i primati del Made in Italy, messi a rischio dagli effetti dei cambiamenti climatici ma anche dai rincari dei costi di produzione dovuti alla guerra in Ucraina. Circa 300.000 persone hanno visitato nei tre giorni del fine settimana il villaggio Col di Retti a Cosenza, sfidando il maltempo al sostegno dell'agricoltura italiana, scesa in piazza per far conoscere i primati del Made in Italy, messi a rischio dagli effetti dei cambiamenti climatici ma anche dai rincari dei costi di produzione per il conflitto in Ucraina. E' il bilancio questo stilato da Col di Retti a conclusione della grande festa di popolo con oltre 150 stand tra mercati degli agricoltori, aree del gusto, street food, agriasili, animali della fattoria, orti, fattorie didattiche, agrischef ed ancora laboratori con nuove tecnologie e workshop presso i quali è stato possibile degustare, apprendere, giocare e divertirsi al fianco di migliaia di agricoltori. Alla tre giorni del villaggio Col di Retti anche il presidente Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo, assieme a Franco Aceto, presidente di Col di Retti Calabria, non sono mancate le personalità del mondo politico come Mirco Cardoni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, e poi Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura del Senato, l'assessore all'agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, Franz Caruso, sindaco di Cosenza, che hanno sottoscritto la petizione contro il cibo sintetico promossa da Col di Retti e Filiere Italia, con partner di rilievo a livello internazionale. La fondazione Campagna Amica ha donato all'associazione Casa Nostra oltre 600 kg di prodotti tipici di alta qualità, dalla pasta alla frutta e verdura, dall'olio extravergine alla carne e al pesce, dai salumi ai formaggi raccolti nel villaggio, grazie all'iniziativa di solidarietà la spesa sospesa. Molto apprezzati i menù a 8 euro, con il meglio del Made in Italy a tavola, dove sono stati gettonatissimi, la pasta con i broccoli, l'anduio e il pecorino, il panino con la salsiccia e le rape di Bisignano, ma anche la carne 100% italiano della braceria, il pesce a chilometro zero e addirittura l'agrigelato e tutto lo street food made in Italy. Noi riteniamo che la Calabria sia un territorio straordinario per tutto ciò che può offrire ai cittadini e ai consumatori, ai turisti provenienti da tutto il mondo. Un'esperienza unica in termini di conoscere quella che è la biodiversità, che l'agricoltura e l'agroalimentare possono offrire come opportunità di esperienza, ma soprattutto nel far capire le potenzialità che l'agroalimentare italiano e calabrese possono offrire in termini di crescita e di sviluppo economico. Questo lavoro, questo tipo di lavoro, allontana la dipendenza dalle mafie e dà occupazione ai giovani. È una festa, è importante portare i bambini qui, portare i ragazzi, perché da bambini ci si innamora della natura, si fa capire il ciclo della vita e speriamo di riuscire ad infettare questi bambini ad essere da grandi, bravi agricoltori, biologici. È stato presentato sabato 11 marzo presso la Biblioteca Comunale di Lamezia Terme il nuovo libro di Eugenio Scagliusi dal titolo. Un nuovo volto per il diritto, evento organizzato dal Movimento Vivere In, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio del Comune di Lamezia Terme. Sabato 11 marzo presso i locali della Biblioteca Comunale di Lamezia Terme si è svolto l'incontro di presentazione dell'ultima produzione editoriale della casa editrice del Movimento Vivere In, associazione di spiritualità operante sul territorio lametino da molti anni. In collaborazione con la Presidenza del Consiglio del Comune di Lamezia Terme è stato presentato il nuovo libro di Eugenio Scagliusi dal titolo Un nuovo volto per il diritto. Eugenio Scagliusi, avvocato, giudice, ausiliario in Corte d'Appello a Lecce e direttore responsabile della rivista dell'omonima associazione, ha dialogato con sua eminenza Monsignor Serafino Parisi, vescovo di Lamezia Terme e con l'avvocato Giancarlo Nicotera, presidente del Comune di Lamezia Terme. I lavori di presentazione sono stati moderati dal critico lametino professor Tommaso Cozzitorto, che ha condotto la serata con la consueta eleganza ed essenzialità. Ha voluto iniziare da un omaggio al fondatore del movimento Viverein, Don Nicola Giordano, con cui in diverse occasioni, proprio Lamezia, ha avuto modo di conversare su temi tanto profondi quanto attuali. Scagliusi, infatti, continua il professore Cozzitorto, ha avuto la forza nella stesura del testo di tradurre in chiave laica e dunque concreta concetti quali quelli del logos amore, che è il vero motore della storia, sottolineando l'indissolubile legame tra vita, politica e diritto. Scagliusi, infatti, ha sottolineato, come nella sua pubblicazione, porta avanti una riflessione ormai divenuta non più rinviabile sul rapporto tra diritto e politica, tra etica e politica. V'è una missione da compiere, essere presenti, attivi, operativi nella storia, attraverso una rinnovata esperienza giuridica. Una presenza che deve scaturire dalla consapevolezza che c'è piena connessione tra l'individuo, la politica e il diritto. L'individuo con la sua azione, attore e protagonista del mondo storico. La politica, luogo di scelta ed indirizzo delle azioni. Il diritto, il suo nuovo volto, strumento di coordinazione delle azioni in vista della piena realizzazione umana. Concetto fortemente rafforzato da Monsignor Serafino Parisi, il Vescovo di Lamezia Terme, il quale ha dato una lettura del testo, collegandola all'idea di giustizia che emerge dalla Sacra Scrittura. In particolare citando il Vangelo di Matteo, sottolineando come l'interpretazione del diritto, avulsa dal contesto storico, genera in realtà l'esatto contrario della giustizia, coniando inoltre un neologismo anfinomos per indicare la duplice prospettiva dal cui va guardato il nomos, cioè la norma. Puntuale anche l'intervento del Presidente del Consiglio Comunale, l'Avvocato Giancarlo Nicotera, per i quali è importante agire nella società con competenza e attenzione al bene comune. Non ci si può dimenticare che dietro decisioni e iniziative ci sono sempre volti di persone reali, vite concrete. Siamo giunti all'ultima notizia, è stato presentato a Palazzo Gagliardi a Vibo Valencia il progetto Educando all'ambiente, promosso dall'ente Parco Nazionale delle Serre che vede il coinvolgimento dei giovani delle scuole di tre province calabresi, Vibo Valencia, Catanzaro e Reggio Calabria. Il Parco Naturale Regionale delle Serre punta l'educazione ambientale e guarda i giovani del mondo della scuola con l'intento di favorire la conoscenza del proprio territorio attraverso nuovi strumenti di analisi della realtà in un confronto diretto con le esperienze locali. Nasce così il progetto Educando all'ambiente che il Parco Naturale Regionale delle Serre rivolge agli studenti del territorio di ogni ordine e grado. Il progetto è stato presentato ufficialmente dal commissario del Parco, Alfonso Grillo, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nelle sale CEV di Palazzo Gagliardi a Vibo Valencia presenti anche alcuni dirigenti o loro rappresentanti di quelle scuole che già hanno aderito e che in questa settimana hanno avviato i primi incontri di lezione con gli studenti. In attuazione a Natura 2000, piano di azione PAF, con il contributo della Regione Calabria sui fondi POR 2014-2020, il Parco Regionale entra nelle scuole dopo uno stop dovuto al problema del Covid. Noi entriamo con le prospettive di far conoscere ai nostri giovani ovviamente l'ambiente con la possibilità di conoscere anche sul posto l'ambiente. Nel concetto di tutta l'attiva, che io dico sempre, è quello migliore per far conoscere ai nostri ragazzi l'ambiente. Consideriamo anche che il Parco è andato oltre quello che è il piano di azione di Natura 2000 perché non vogliamo soltanto che riconoscono l'ambiente come azione principale del progetto ma anche conoscere il territorio nel concetto di unione e di sensibilizzazione nella nostra cultura e tradizione perché molto spesso i nostri ragazzi non conoscono il nostro territorio. I numeri dicono che, malgrado sia solo l'inizio, le adizioni sono state tante e importanti. Molto soddisfatto su questo. Devo dire che non pensavamo che tutti gli istituti che alla fine hanno aderito potessero partecipare. E infatti quest'anno l'abbiamo fatto in maniera un po' più ridotta considerato sia la questione economica che il tempo a disposizione. La scuola chiuderà a maggio e quindi ci siamo rivolti esclusivamente al territorio vibonese avendo e ottenendo dei numeri importanti che sono 15 istituti scolastici e 800 ragazzi. Pensiamo e crediamo che negli anni successivi ci si possa allargare anche le altre province ovviamente partendo con l'inizio dell'anno scolastico già da settembre. È tutto per questa edizione e vi lascio ora con le notizie dall'Italia e dal mondo. Grazie per essere stati con noi. Inizio settimana convulso per i mercati mondiali dopo il crack della Silicon Valley Bank. La discesa in campo del governo americano che ha promesso che tutti i depositi saranno rimborsati non sembra però arrestare l'emorragia di fiducia. Biden prova a rassicurare i mercati. Gli americani possono stare tranquilli, i loro depositi sono al sicuro, afferma il capo della Casa Bianca ma insieme ai titoli di Stato mondiali affondano le borse europee. Profondo rosso anche a Piazza Affari, maglia nera tra le borse del vecchio continente con il Futsi Mib che lascia sul terreno oltre il 4%. Seguiamo con attenzione gli sviluppi della vicenda, dice il ministro dell'economia italiano Giancarlo Giorgetti che aggiunge apprezziamo la tempestività con cui le autorità americane sono intervenute e confidiamo che se necessario anche le autorità europee intervengano con la medesima tempestività. Mentre Bakhmut, epicentro della guerra in Ucraina, continua a infuriare la battaglia il Kremlino sbarra la strada a qualsiasi tentativo diplomatico. La Russia può raggiungere i suoi obiettivi solo militarmente, dice il portavoce Peskov che dopo l'annuncio di Papa Francesco su un possibile viaggio in Russia osserva attendiamo una dichiarazione ufficiale da parte della Santa Sede. A Mosca intanto è attesa per la prossima settimana la visita del rieletto presidente cinese Xi Jinping che dovrebbe incontrare online anche Zelensky. Sarebbe il primo confronto dall'inizio del conflitto. Era il 13 marzo del 2013 quando Mario Bergoglio diventava Papa. Argentino è il primo pontefice a venire dall'America oltre a essere il primo gesuita a capo del Vaticano. Sceglieva di chiamarsi Francesco in omaggio al Santo di Assisi. I suoi primi dieci anni di pontificato ci consegnano l'immagine di un Papa sobrio. Amato e osteggiato ha sempre agito con il suo stile latino. In apparenza rivoluzionario su alcune posizioni non è però arrivato a stravolgere i dogmi della Chiesa su grandi temi. A dieci anni dalla sua elezione, Papa Francesco si racconta in modo inedito affidando le sue parole ad un podcast realizzato dai media vaticani e non ha dubbi su cosa chiedere al mondo come regalo per il suo decennale. La pace ci vuole la pace. Mi fa soffrire vedere i morti. Ragazzi, sia russi che ucraine, non mi interessa che non tornano. È dura, dice il pontefice. Mentre il mare continua a restituire i corpi dei dispersi sulla spiaggia di Cutro e a largo della Libia si consuma un nuovo naufragio, la Commissione europea precisa che in acque libiche possono intervenire solo i libici. Dopo l'ultimo naufragio di migranti a largo della Libia, l'Unione europea ritiene necessario inviare altre motovedette alla Guardia Costiera del paese nord-africano per rafforzare la capacità di gestire le frontiere. Intanto questa mattina a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha riunito i ministri di interno e difesa, Piantedosi e Crosetto, i vertici dell'Intelligence e i due vicepremier Salvini e Tajani. Sul tavolo il dossier immigranti e il nodo sicurezza più in generale. Signora Wang, signora Wang è con noi, la sto ascoltando. Everything, everywhere, all at once sbanca la notte degli Oscar 2023. La pellicola opera dei Daniels, Daniels Wayne e Daniels Knight vince sette statuette tra cui miglior film, miglior regia, miglior attrice Michelle Yeoh e migliori attori non protagonisti su 11 candidature. Un trionfo da record non era mai successo, infatti, che un film conquistasse sei Oscar nelle categorie più importanti. A spezzare il monopolio di Everything, everywhere, all at once è solo Brendan Fraser che ha avuto il premio come miglior attore protagonista per la sua toccante interpretazione in The Wheel. L'Italia rimane a bocca asciutta. L'Italia rimane a bocca asciutta.